Giornata di Mediadei e di riflessioni in casa Pistoia Basket dove a tenere banco è la discussione tra la USAP e il presidente bianco-rosso Ron Rowan. Quest'ultimo è stato accusato di aver superato il proprio ruolo nella partita in casa contro Venezia passando davanti anche a coach Valerio indicato a sostituire coach Calabria nella partita interna contro gli Oro Granata. Il presidente bianco-rosso ha risposto nel pomeriggio attraverso una nota stampa ufficiale del canale bianco-rosso parlando di scuse alla USAP e dicendo che dalla prossima giornata andrà nuovamente in panchina senza però fare nient'altro che il dirigente accompagnatore. A proposito di coach Calabria sarà da chiarire in settimana quella che è la posizione dell'allenatore bianco-rosso quel che è certo è che il suo agente è partito da Miami ed è arrivato in Italia per discutere con la società di Pistoia da vedere se per continuare e ricuscire il rapporto o se ci dovrà essere un'interruzione forzata prima della fine del contratto triennale.